Maestro, potete farmi sentire qualcosa che state scrivendo? Certo. L'inizio di un'opera deve essere sempre semplice e brillante. Io faccio pure la triade in re maggiore. L'ho spartito nella borsa, un attimo. Bravo. Es ist frisch, molto vivace. Danke. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bravo. Bravo, molto bello.